a tutti allora oggi in questo video voglio far vedere come fare delle porte candele allora per queste fare queste porte candele ci occorrono quindi due bicchieri questi sono dei bicchiere della nutella due bicchieri delle forbici due candele dei fiocchi di ruban quindi prendete il colore che volete io avevo questo ho preso questo e degli adesivi quindi degli adesivi come del merletto ecco adesivi a merletto quindi sono plastificati quindi procediamo allora ok dunque procediamo allora io ho preso l'adesivo scelgo questo uno ogni bicchiere faccio un adesivo differente quindi per questo bicchiere vado a prendere questo motivo così questo allora come facciamo io prendo prendo la misura giro intorno al bicchiere e quando arrivo alla misura taglio tagliando un po di più così ecco quindi questo il bicchiere lo metto così forse lo vedete meglio sperando che non cade quindi tolgo l'adesivo lo metto diciamo a questa altezza oppure più alto come volete io lo metto qua e faccio il giro vedete un po più lungo ma non fa niente siete sopra aspettate non ho messo bene ecco così a posto vedete come è bello adesso io ci voglio aggiungere un fiocchetto ho preso questo ma voi prendete fiocchetto dei colori che volete non ci sono ognuno fa come vuole ecco faccio un bel fiocchetto così vedete taglio la lunghezza desiderata poi volendo potete anche mettere un po di colla per farlo mantenere ma normalmente non cade però volendo per essere più sicuro mettete un punto di colla di colla calda oppure di posti come volete vedete com'è bello facciamo quell'altro allora questo prendo quest'altro adesivo quindi faccio la stessa cosa prendo il bicchiere prendo la misura che voglio questo va bene vedete ma certo perché ho tagliato tutte e due quindi va benissimo allora prendo l'adesivo lo tolgo e allora questo forse no lo metto proprio qua sopra vado a metterlo allo stesso il bello è che poi con questi adesivi potete anche toglierli se non vanno bene se non mi piacciono più e vedete tolgono comunque facilmente ecco 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 se non l'ho messo bene bene aspettate vediamo un po' più un po' più probabilmente e voilà ok vedete che belle allora adesso non lo so prendiamo un a caso prendiamo questo allora io questi nastrini li ho comprati a questo negozio come vi dicevo sempre da z man si trovano veramente cos'è non troppo care quindi questo uguale faccio il nudo prendo tutto la metà se siete in due ancora meglio perché qualcuno può mettere il dito per fare il nudo ma anche da solo si può fare benissimo quindi faccio la stessa cosa taglio e da questa parte anche ecco ragazzi allora questi sono i bicchieri finiti allora li mettete più su più giù come volete il nastrino lo mettete come volete se volete metterlo più sotto come volete io l'ho messo così poi ognuno fa come vuole ecco adesso metto le candele e li andiamo a accendere e voilà queste sono le candele spero che spero che vi siano piaciuti fatemi sapere se se vi sono piaciuti i vostri commenti se vi è piaciuto mettete un pollice in su se volete iscrivervi al mio canale iscrivetevi e non mi resta che dirvi alla prossima ciao ciao